Il cancello resta uno dei problemi dei migliori problemi all'interno del mondo. Ha affezionato circa uno in due uomini e uno in tre uomini. Le droghe orale, le injectazioni, la radioterapia e la scuola sono le terapie convenzionali. Tutti questi sono tratamenti effettivi, ma molto invasivi, aggressivi e dolori per i pazienti. Abbiamo trovato un'alternativa efficace, sicura e semplice, coinvolgendo nanomateri carbon-based, come carbon nanotubes, graphene e fullerine. Grazie a loro piccoli siti, questi materiali aiutano una terapia locale, coinvolgendo il tessuto del tumore. La lettera è caratterizzata da una piccola concentrazione di oxigeno, un'ambiente acidica e, più oltre, una vascularizzazione extensiva. Tutti questi tipi sono modulati dai nostri nanomateri, per targetare e destruire le celli del tumore. Inizia con il nostro grafene funzionalizzato, può ristorare la concentrazione di oxigeno naturale, supprendo il ruolo del tumore. più oltre, abbiamo costruito pH-sensitive carbon nanotubes, utilizzati come traccia di traccia. In questo modo, in presenza di un ambiente acidico, permette il rilascio di traccia anticancer. alla fine, abbiamo fatto l'utilizzo di funerina per incontrare le molecole responsabili per la distruzione del tumore extracellulari. In questo modo, possiamo evitare la diffusione di celli di cancer. La nostra squadra ha portato tutti gli esperimenti in vitro con risultati successivi per i canceri, lungo e pancreas. Abbiamo voglia di riproducirli in vivo, usando le mice, e ottenere la soluzione che sarà usata per gli uomini. Per il nostro progetto, noi aspettiamo di spendere un anno di lavoro e abbiamo bisogno di fondi per materiali, strumenti tecniche e due più persone per employare in nostro team, per un budget total di circa 100,000 euro. La nostra terapia locale ha il potenziale per aiutare centri di milioni di persone per aiutare i monti di dolori, ma bisogna il vostro supporto. NANOMATERIALS FOR GREAT HOPE